Pallavolo femminile, manca soltanto una giocatrice nel roster dell'Imoco Volley Conegliano e quasi sicuramente non sarà questa giocatrice, questa trevigiana, questa atleta di Codognè in provincia di Treviso, Jenny Barazza, che dovrebbe in queste ore salutare e ringraziare la società del presidente Garbellotto da quello che ci risulta, sembra che lei si senta ancora in grado di giocare, quindi vorrebbe giocare, cosa che non può garantire l'Imoco Volley Conegliano, vedremo cosa succederà, in settimana si attende forse il nome di colei che sostituirà la trevigiana.